27 nuovi casi di coronavirus in un giorno in Versilia, di cui 16 a Viareggio e un totale di 556 positivi. Questo è il bollettino di domenica sera della ASL Toscana Nord-Ovest, numeri in crescita dopo molti giorni di calo, ma i dati vanno letti su scala settimanale, come ricordano sempre gli esperti e gli stessi sindaci. Negli ultimi sette giorni, ad esempio a livello regionale, c'è stato un calo complessivo di positivi del 18% rispetto alla settimana prima. Le guarigioni sono aumentate del 200% e i ricoveri calati del 14,5%. I numeri altalenanti della Versilia sono dovuti a tantissimi test effettuati negli ultimi giorni nelle residenze sanitarie assistite per anziani, ma anche alla gestione delle analisi dei tamponi fatti. Per evitare questo andamento, un divago dei dati, i sindaci di Camaiore e Forte Remarmi chiedono che venga aperto un laboratorio per analisi dei tamponi per la sola Versilia. Permangono ancora alcuni problemi relativi ai tempi di attesa tra la segnalazione del merito curante e l'effettivo espletamento del tampone dalla persona che presenta sintomi o che comunque potrebbe essere positiva. Su questo noi sindaci tutti insieme lavoriamo per premere perché il numero del personale, i tempi sia adeguato e i tempi che ovviamente sono richiesti da quest'operazione siano quanto più contenuti possibile. I tamponi della Versilia non erano stati fatti e forse non vengono stati fatti con continuità e questo ci dà ragione del fatto che qualche giorno fa ci fossero dati molto 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 bassi e ora abbiamo dati alti ma perché vengono analizzati, che ne so, tamponi che sono cinque giorni che sono fermi lì. Io continuo a ribadire, in una fase come questa è necessario per quanto riguarda il controllo della pandemia, riaprire l'ambulatorio analisi della Versilia e i tamponi della Versilia vengono analizzati lì. Non è corretto mandarli a Pisa, non è corretto mandarli a Livorno, farli ritornare indietro e avanti e indietro. I tamponi della Versilia vanno analizzati al Versilia, i soldi in questo momento ci sono, facciamolo, certamente non sarà una cosa che durerà una vita però in questo momento è necessario che si faccia la ASL una volta per tutte, cerchi di dare una mano e essere ragionevole in questo.